Questo dovrebbe essere un buon matchup per me, perchè io ci ho sempre perso con 3 secondi per tempo rinforzato. Che è buono, man. Che è buono. Che è buono. Lord Walker c'è la pavita in shredder con 3 arcane missile in mano. Che è buono. Niente in particolare. Non mi occupo di niente in particolare. Usiamo un curator? Deathlord. Va bene. He's Batman. Quindi se io attaccassi, lui comunque attaccherebbe. Lasciamo così. Non attacchiamo. Ha lo stesso errore di prima, attaccare prima con Mad Scientist prima di giocare l'Arcane Intellect per non pescare. Vedi che l'ho pescata la Mirror Entity. Vedi che l'ho pescata la Mirror Entity. Stavolta attacco. Ancora ho sbagliato. Vediamo, ho sbagliato ancora. Mi darei una zombie ciao? Cosa dovrei mai darmi? Uuuuh, come sei pesante. Come sei pesante. Una Frost Bolt qua sarebbe molto forte. Devo dargli un Flame Waker. E in Corso Foto. Suntime is running. Suntime is running. Sometimes it's wrong Eh, feels bad, man Feels bad Non so qua come ne vengo fuori Belen Chosen, Power Wars Shield Su Deathlord Pretty bad, if you ask me Pretty bad Cabal non la può ancora giocare Per adesso Eh, pena, sti cazzi Sto neccato Sti gran cazzi Prozmod, si Light bomb Va bene Wow 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 non posso giocare a Ronin, mi gioca in Tomb mi sa che non va Ralla questo non posso, beh in teoria posso, perchè lui gioca a caballa e io lo tremo, poi lo faccio per me, allora io gioco quello qui, quello sono 6, questo sono 3, sono 7 sono 11, non sono messo bene non posso giocare la tua caballa, dai non ho saccadito non sarà quella la giocata migliore non ho saccadito fuck you ok, ok adesso vediamo se è a seconda in Tomb, dai se è a seconda in Tomb o perso? se non ce l'ha posso vincere non ce l'ha posso vincere non è secondo in Tomb, no 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 è secondo em Buon appetito! 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 come on 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 come on